Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! La grafica, la qualità grafica, e andiamo a vederlo. Ovviamente qua ci sono le statistiche con i morti finali segreti, quindi sembra essere una bella avventura compi finali. Noi iniziamo, notte dello sviluppatore, 3 minuti alle 8, risultato di molte notte insonnia. Ho creato l'idea prevalentemente in uno stato di dormiveglia subito prima di addormentare, costringendo una reazione abbastanza sveglia a lungo da scrivere appunti su un pezzo di carta o sul mio telefono. Spesso mi addormentavo con le note in mano. Il mio obiettivo è creare un'esperienza di gioco che imiti uno stato mentale incerto, in equilibrio sul filo della coscienza, dove tutto è possibile eppure rimane sfuggente. Spero ti divertirai con questo viaggio nei meandri del cervello umano e per favore ricordati tre cose. I robot non sono ciò che sembra, il tempo è solo un costrutto mentale, più volte ti sveglierai e più cose diventeranno strane. Ok, praticamente, veloce tutorial, lo facciamo al volo. Praticamente questo tizio qui deve morire alle 19.57. A 3 minuti alle 8 in pratica. Per muoverti in giro sposta il cursore nell'area desiderata e clicca col tasto sinistro. Ok, questo è vecchissimo stile. Doppio clicca la corsa. Per interagire con gli elementi nei paraggi sposta il cursore del mouse. Ok. Quadro. Esamina. Usa. Non voglio spostarlo, non c'è una casa fatta dietro. Ok. Bene. Nel niente di nuovo finora. Evidenza gli hotspot, quindi possiamo vedere che questa è una semplificazione che... È una semplificazione da giocatore e videogiocatore moderno. Quindi non la gradisco, ma mi fa comodo, insomma. È pieno di fatture, contratti noiose, rapporti medici, non voglio ci perdere. Ok. Questo è l'inventario, che vediamo in alto. Puoi usare. Sì. Usa. E ho capito, ma cosa posso fare io con questa roba? Ho una vecchia pellicola cinematografica e un accendino delle forbici. Col dopo cliccore. Uso. Un pari di fabbrici carcelli insedabili, fatto abbastanza a tagliare qualsiasi cosa. Devo stare attento alle dita quando lo uso. Questo è un accendino. Un'incisione sul fondo, scritto come Come on baby, light my fire. E questa è una pellicola. Se lo tengo contro la luce, posso vedere alcuni fotogrammi, ma non ho idea di che film sia. Chiudo l'inventario. Ok, ma non me lo fa usare però. Se io uso questo su questo. Infatti, uso questo su questo. Uso questo su questo. Non voglio fare del male a nessuno. Non ho una buona idea, vero? Anche è possibile combinare oggetti nell'inventario tra di loro. L'accendino con le sigarette. Ok. Ok. Va bene, va bene. Passa un minuto. Allora, passare un minuto. Questo potrebbe risultare utile quando vuoi fare qualcosa ad un determinato orario. Fantastico! La finestra delle note, non so mai di cosa il protagonista conosce o deve fare. Puoi accedere in qualsiasi momento premendo l'icona a forma di pagina in alto a destra, oppure premendo F. Ok. Apriamo le note. Posso accedere a questa schermata, finisco presto il tutorial e posso iniziare a giocare per davvero. Va bene. Sembra molto, molto, molto interessante. Lo cominciamo, nello slot di salvataggio 1, sovrascriviamo, tanto non c'è scritto niente, e lo iniziamo a provare. Anche questo, ovviamente, secondo me, questo potrebbe essere una piccola perla e non voglio spoilerare troppo, perché mi sta già intrigando parecchio. Sono le 19.33 di una sera inizio a dicembre a Milan. È l'anno 2043. Ti svegli da un sonno la cui durata non ti è chiara. Era un pisolino di 5 minuti o 40, forse un anno. Il tempo sembra essere scivolato via, lasciandoti far stornato e confuso. Capita anche a me quando mi addormento prima di cena. Ti guardi attorno e tutto sembra fuori posto. Nel tuo appartamento, dove hai vissuto per 9 anni, eppure c'è qualcosa che non torna. È difficile da descrivere, ma è come se mancasse qualcosa, o se qualcosa di nuovo fosse stato aggiunto. Ti alzi e stiracchi, cercando di scrollarti di dosso, quella strana sensazione. Qualcuno sta suonando al citopono da giù in strada? Non aspetti visite, tuttavia sarebbe il caso di andare a vedere chi è. Ok, quindi praticamente qui abbiamo le impostazioni. Ok, sì, non vedo l'ora perché è uscita. Questo è l'inventario. E questa è la pagina. Mi sono svegliato, sto al dito e con... Ok. Sta suonando. Corridoio. Questo? Citofono. Chi è? La fine è vicina. Ogni istante che passa ti porta più vicino alla morte. Anche perché mancano 20 minuti, più o meno. 25, 24 minuti. Che stai dicendo? Muoviti prima che sei dopo tardi, solo tu puoi fermarla. Subitopo avrei attaccato il cetofono a fare una sensazione inquietante. La voce ti sembrava stranamente familiare. Cerchi di scacciare quel pensiero ripetendoti che era solo un brutto scherzo. Inoltre, lo stomaco brontola per la fame e quasi ora di cena e sarebbe meglio cercare qualcosa da mangiare. Tuttavia, con la voce, avrai detto che la fine è vicina e che solo tu puoi fermarla. Ma è possibile che la cosa sia legata con la strana sensazione con cui ti sei svegliato? Sei motivato a scoprire di più, ma cominciando da dove? Forse le strade della città hanno le risposte che cerchi. In realtà, io sto bene con le scarpe che ho. Ok. Ma che casa è questa? Intanto passano i minuti, eh? 36 Ma mamma mia, se passa il tempo veloce! Ho fatto una corta di confusione, ti andrei a pensare e cerchi di capire lo strano modo in cui sta trascorrendo il tempo. Sembra che, indipendentemente da quanto stai in un posto, il tempo resti immobile. Solo quando ti sposti da una stanza all'altra, l'orologio avanza di un minuto. La sensazione di sconforto con cui ti sei svegliato persiste e il disagio aumenta. Ti chiedi se forse stai ancora sognando. È davvero reale ciò che ti... Ma che bello, perché comunque... Io nella stanza... Le mie chiavi sono qui, meglio prenderle. Perfetto, preso le chiavi. Cioè, io quando sto in una stanza, il tempo non passa. E quindi... Questa è la camera. Quindi io dovrò far passare, purtroppo, altri minuti. Adesso tornai indietro. E questa casa fatta a corridoio è... Dovrei uscire in strada. Ma lui ha detto che volevo mangiare. Quindi andiamo a soggiorno e vediamo se c'è qualcosa da mangiare. Prendiamo la lattina di soda. E non mi apre il congelatore sotto. Niente. Va bene, vediamo cosa c'è qui. Tanto qua possiamo goderci tutto il tempo che vogliamo. Non passa il tempo. Questo è uno schedario. E' un computer. La grafica è quella di Shadow of Doubt, ma in 2D. Password. Non lo so. La password purtroppo non la so. Vediamo i punti con cui possiamo... Siamo a monodilano. Sono necchiato abbastanza per oggi. Questo cos'è? Non ha senso utilizzarlo senza... Ah, qua carica le batterie. Ok. Voglio guardare la TV. Questa è una libreria. Non ho tempo per leggere. Cosa c'è scritto qui? Non ne ho bisogno. E qua c'è il terrazzo. Ma uscendo, probabilmente, passa un minuto. Che bella. Ecco, qui passa un minuto, sicuro. Ah, Milan. Milan. E' Milano? Boh. E' in 2040 le rotti. E' cambiata molto negli ultimi anni. Nonostante abbia perso il suo vecchio fascino. E tutti i ricordi che avevi qua la trovo ancora affascinante. Luci al nero, macchine volanti, l'asfalto imbevuto di pioggia, il loranzio degli annunci pubblicitario. Ehm. Ah sì. Tutto si sfonde per creare la sinfonia della città. E ti piace venire sul balcone di casa per goderti la vista, lasciandoti travolgere da questa atmosfera. Blade Runner, Cyberpunk, tutto quello che volete. Mi piace sempre molto questo da vedere. Comunque, forse non abbiamo perso il minuto, o forse sì, non ho visto. Comunque, la password del computer non ce l'abbiamo. Negli oggetti credo che non abbiamo nulla di... Però fatemi vedere lo smartphone. Il telefono sembra essere... sembra resettato. Non voglio niente, voglio provare a uscire di casa, perché lui ha detto che doveva uscire in strada, ma se io mi metto a ordinare la pizza, vado a perdere altro tempo. Quindi provo a uscire. Le chiavi le abbiamo prese. E sembra essere veramente una genialata, a questo gioco. Eh, ma dovremmo trovare un ascensore, infatti. Ho appena detto. E passerà un altro minuto. Sì. Noi tecnicamente dovremmo morire tra un quarto d'ora, più o meno. Quindi, questa è l'altra io di casa. Signora Marmocchi. Hai visto il mio gattino? No, mi dispiace, ovviamente lo cerca. Posso chiederle alcune cose? Gli hanno citofonato qualcosa? Poco fa, per dirle cose assurde? Intendi i testimoni di... E da un po' che non li vedo, di solito non arrivano a quest'ora. C'è qualcuno che dice che la fine è vicina, o qualcosa del genere. Sembra Alan, il senzatetto che vaga per strada. Non mi è infastidito. E nemmeno i dementi vogliono parlare con anche il signore. Credo tu abbia ragione. Sono più vicino alla fine che all'inizio. Ma chi se ne frega. Mi divertirò fino all'ultimo respiro. Questo è lo spirito giusto. Bene, credo sia meglio che vada. Come se pensi vede il mio gattino. Vediamo se c'è qualcosa con cui possiamo... Questo è il portinaio? È una robot. Cosa posso fare per lei? Hai la chiave dell'armadietto? Sì, ce l'ho. Puoi darmela? No, non posso. Non posso consegnarla così facilmente. L'armadietto è per uso comune. Deve avere una buona ragione per accedervi. Ce l'ha? Gli dico questa cosa... Il mio stato mentale è un po' così... Un po' instabile. Ciò che posso trovare all'interno potrebbe aiutarmi a capire cosa sta succedendo. Gli inquilini dovrebbero essere in grado di accedere all'armadietto. Non mentre sono di guardia, signore. È totalmente illogico. Attrezzi andrebbero perduti, consumati, rubati e caos. Direi di no. Gli ho detto che stavo esagerando. No. Non ho un motivo valido. Quindi magari potrò, in futuro, usare qualcosa per magari... Proviamo a dargli fuoco. No. Non si possono fare cose trash. Usciamo. E vediamo in strada che cosa c'è da vedere. E questo è praticamente Shadow of Doubt. In due di, vero? Note aggiornate. Devo trovare un modo per convincere Allen a darmi la chiave del armadietto condominiale. Questa è una delle soluzioni, ma in realtà potrei andare avanti lotteria automatica. Non ho il mio portafoglio con me. Poi niente, l'ho lasciato in casa. Non è il momento. Quindi praticamente adesso il tempo è congelato. Ammariato di metallo. E' chiuso. Me l'ha aggiunto nelle note anche questo, no? Per giochi di questo tipo non serve neanche avere un gran numero di ambientazioni, ma le possibilità la fanno da padrona. Puoi lasciarmi andare laggiù? Se non c'è modo di convincerti. Se cercando di correre un premio potrei farti arrestare per questo. No, stavo solo pensando all'altra voce. Vai via. Ok, quindi chissà cosa stai facendo. Sono un robot di guardia modello PD99, creato da Zatoshi Corporation. Sono schierato in questo punto per fermare le persone sospette che vogliono proseguire lungo la strada. Io sono un sospetto. Secondo il mio sistema di riconoscimento è analizzatore di dati, sì. Sospettato di cosa non mi è permesso fornire. Ok, meglio che vada. Prendiamo a vedere cosa c'è dall'altra parte, quindi intanto da qui abbiamo visto, se io tengo premuto vedete che cosa, eh. Ci sono delle persone con cui posso parlare, tipo questa, Ranma. Sei il buttafuori? No, sono troppo delicato per essere un buttafuori. Inoltre questo posto non apre per un altro paio d'ore. Sarò già bello che è morto, io tolto un paio d'ore. Va bene. Non sono un rockstar, blackstar. Va bene, dai, è entrato. Arrivederci. La fine è vicina. Questo è un grande classico. Non c'è bisogno di urlare, sono quei due passi. Che vuoi? Stai disturbando il mio annuncio. Ti lascio le tue urla. Sei statuto a suonare il mio citofono? Ma figurati, non so nemmeno dove vivi, però ti ho già visto prima. Alcuni giorni abbasso lo sguardo quando cammini vicino, ma niente di più. Non vado in giro a suonare i campanelli degli sconosciuti. Sembravi tu però, o almeno il tipo di cose che... Vabbè. Sì, in effetti. In effetti. Vabbè, ti lascio le tue urla. Addio. Vediamo dove finisce la mappa di là. Non voglio gettare nulla lì dentro. No, non volevo cliccare lì. Qui c'è un negozietto. Scalp hub. Può andare. No, è tutto chiuso, tutto chiuso. Saranda chiusa. Eh, ci dà infinite possibilità, chissà. Fried chicken. E qua finisce la strada. Distributore automatico. Ok, vediamo cosa posso fare da me, Henry. E poi vediamo cosa posso offrirti. Posso avere il pollo fritto? Il meno speciale è 24. Vado? Ok, ho dimenticato il portafoglio. No, ho sbagliato prima, mannaggia. Va bene. Niente, è meglio che vada. Ok, andiamo a casa. Perché non voglio guardarmi troppo in giro. Non voglio scoprire troppe cose. Perché... Secondo me questo gioco è una figata. Citofono. Spezza il ciclo. Che pirla. Sta facendo lo stesso. Vabbè, torniamo in casa. Che è successo? All'improvviso senti una fatta esplosione a cui un dadurto ti scuote le visce e ti chiedi cosa sia successo. Non sembrava né vicina né lontana. Scusami, adesso io ne approfitto tanto abbiamo ancora qualche minuto. Poi non è successo niente, rientriamo. Quindi tecnicamente noi moriamo ai 57. Torniamo in casa e cerchiamo il portafoglio. Però io voglio vedere cosa succede a 57. Perché... Ok, qua abbiamo la casa. Qua è un appartamento che non è il nostro. Tecnicamente noi abitiamo qua. No, mi abitiamo qua. Perdono. Apriamo la porta, entriamo, passa un altro minuto. Perfetto. Senti il suono della doccia proveniente dal bagno. Ehi sono. Dopo alcuni momenti in cui rimani perplesso il suono della doccia si interrompe. Ma. Ciao Carlo, stai bene? Lei è Monique. Sono sorpreso di vederti qui. Chi sei? La mia ragazza o qualcosa del genere? Dici sul serio? Certo che sono la tua ragazza, panda scemo. Hai mangiato piccante a pranzo? Lo sai che il piccante ti fa vedere gli incubi. Non ricordo cosa ho mangiato a pranzo. Sorpreso di vedermi qui. Io vivo qui. Mi stai dicendo tra le righe che dovrei andarmene? No, no, no. Sono solo un po' confuso. Ok. Abbiamo scoperto una nuova cosa. Non mi sento... Hai sentito quell'esplosione poco fa? L'ho sentita anch'io. Ho cercato online cosa potesse essere ma non ho ancora trovato risposte. In che razza di mondo viviamo? Stanno succedendo troppe cose strane stasera. Non preoccuparti. E così... Ok. Non voglio discutere, non voglio approfondire perché questo non è la sede. Cioè... Mi intriga, però va visto proprio con calma il gioco. Non voglio. Mi chiedo solo l'unica curiosità che ho in questo momento è dato che io tra sei... C'è un letto singolo. Vabbè. Dato che io morirò tra pochi minuti voglio capire che cosa mi succederà. Rientro in bagno. E non vuoi fare niente. Ok. Nel bidone non ce ne sa buttare. Ok. Dai continuiamo a dare un'occhiata in giro. Mancano tre minuti. Tra poco ci sarà... No, no, no. Dai lì. Ci sarà... No, non usci. Vabbè, io vorrei morire in casa. Quindi cinquantasei. Adesso... Manca un minuto. Ok. Alle otto meno tre minuti un uomo in tren c'è fedora e a passo dal nulla ti ha sparato a sangue freddo uccidendoti. Ok. Abbiamo uno dei finali. Risvegliati. Per favore seleziona un oggetto di inventario che vuoi tenere. eh, le chiavi di casa. E si riparte da capo di nuovo. Questo potrebbe essere una delle perle indie dell'anno, eh. Ti guardi attorno. Ok. Siamo di nuovo qua. Questo è un loop. Notte aggiornate. Mi sono svegliato? Eh, vabbè. Ragazzi. è molto interessante, eh. Molto interessante. Mancano una ventina di minuti ancora. Ma se io andassi di sotto senza... C'è, lui mi sta citofonando. Ma io me ne frego e vado di sotto. A vedere se c'è qualcuno che citofona. No, lo faccio giusto come ultima prova. Poi è un delitto continuare. Assolutamente un delitto perché poi il gioco ve lo dovete godere se vi piace. sì, 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 sì. Questo me l'aveva ricordato di sopra prima, mi pare. Comunque, dovremmo tecnicamente beccare il tizio che ci citofona. No. Non c'è nessuno che citofona quindi non però voglio calcolare una cosa. Se io domando a lui bello, bello perché non mi ha citofonato quindi io non posso dirgli se era lui e citofonare. Bello, fatto bene. Ragazzi, questo era 3 minutes to hate. Fatemi sapere che cosa ne pensate perché sembra veramente, veramente figo, intrigantissimo. Un po' come quell'altro gioco uscito un paio di anni fa su il loop temporale nell'appartamento insomma che non ha avuto un gran successo ma non mi ricordo il titolo. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e alla prossima. Ciao ciao.